Siamo in zona Tricalle, esattamente in zona San Salvatore a Chieti. Come vedete c'è un varco aperto e il varco che porta all'interno di quello che era il villaggio del Fanciullo. Ora vi facciamo vedere come purtroppo la struttura è ridotta. Entriamo perché il varco, ripetiamo, è aperto. Si tratta di un complesso storico per Chieti realizzato da Donungo Simeonibus per ospitare nel 1945 le persone, soprattutto i giovani in difficoltà nel dopoguerra e che poi diventò un vero e proprio centro di accoglienza come il sacerdote aveva voluto. Ora le immagini postate su Facebook da un cittadino, Carlo Di Primio, hanno riaperto il dibattito. Per la verità sono due gli edifici, uno più antico e uno realizzato negli anni Sessanta. Già nel 2016 Monsignor Forti aveva chiesto un aiuto alla regione affinché in sinergia si potesse riportare una delle due strutture appartenenti alla Curia agli antichi splendori. Ma al momento anche la nostra telecamera ha documentato lo scenario desolante all'interno della struttura più nuova, si fa per dire. Facilmente accessibile dal cancello semiaperto, a prima vista si scorgono nel grande vano centrale divani, mensole, materassi, vetri rotti. Nelle diverse stanze ci sono segni di vita vissuta, di senza tetto e disperati che qui trovano riparo. C'è persino una piscina in quello che potrebbe diventare un polo culturale o magari una grande casa aperta e bisognosi. Sì, ma per un'opera di restauro le parole non bastano. Sono soprattutto i cittadini a rivolgersi alle istituzioni affinché il sogno di Don Ugo possa continuare. Situato nella zona del Tricalle, come detto, il complesso appare come un fantasma tra i campi e le case vicine. Certo occorrono finanziamenti per ridargli dignità, ma è un peccato, tanto per restare in tema un sacrilegio non poter riconvertire la struttura che consta di più piani e diverse stanze. Uno scenario surreale per chi ci entra facilmente. Per i teatini, il villaggio del Fanciullo rappresenta un pezzo di storia con lo straordinario entusiasmo con cui Don Ugo aveva voluto mantenere il complesso per dare assistenza e un tetto a chi ne aveva bisogno. Ci vorrebbe un miracolo per rimettere in sesso il villaggio del Fanciullo? No, forse solo un po' di buona volontà da parte degli uomini nel ricordo di quel prete tenace che mai avrebbe voluto vedere ridotta in queste condizioni la sua creatura.